Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Grazie mille Marco e Barbara e sì siamo qui in diretta da Sanremo anche per tutti gli amici all'ascolto di Radio Bruno ma non sono da sola sapete chi c'è con me Robby Facchinetti e Riccardo Fogli benvenuti ciao a tutti ciao amici allora subito domanda bruciapelo questo fatto che non ci sia comunque l'eliminazione è più rasserenante meglio così il festival ma assolutamente meglio anche l'abbiamo sempre trovato in ingiustizia vero sì mortificante l'altro anno mortificante per alcuni colleghi bravissimi vincitori cacciati via poi no 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 direi proprio per sempre eliminare le ragioni che noi ci troviamo a Sanremo perché devo dire che tra le altre cose belle che ha fatto Claudio questo io credo che sia la cosa più più bella insomma perché non siamo una corsa di cavalli è chiaro tra l'altro una cosa bellissima questa sera ci emozioneranno molto perché esibiranno inizieranno la loro esibizione proprio seduti al piano un'emozione unica un crescendo un dialogo tra amici la vostra canzone insomma sì adesso non si può dire esattamente le date ma nel giugno del 66 io lo conobbi quest'uomo qua era capellone c'aveva i pantaloni a zampa d'elefante e già diventammo grandi amici e siamo ancora qua ci stropicciamo ci abbracciamo ma devo dire che sono fortunato avere un amico come lui no no riccardo è una bellissima storia anche perché come stavo dicendo siamo conosciuti nel 66 lui suonava in un altro gruppo siamo conosciuti nel locale a milano il piper noi eravamo già i puo abbiamo già inciso loro invece ancora no e comunque fai sempre pesare sta faccenda chissà perché però ci siamo conosciuti lì e per sette anni che abbiamo vissuto praticamente molto vicino abbiamo condiviso tutto i sogni innanzitutto di fare questo questo bellissimo mestiere e abbiamo abbiamo condiviso la fame e le pensioni gli albergacci e i polmini che si rompevano e quando l'autostrada finiva a battipaglia insomma veramente tutto e ci siamo ritrovati poi grazie alla alla riunio e da lì insomma ci è venuta questa voglia di fare qualcosa insieme e quindi vi stupiranno sul palco dell'ariston io ringrazio davvero di cuore robbie facchinette riccardo fogli a questa sera e lo sapete radio bruno è sempre aperta voi vi riaspettiamo qui voi buttate la pasta che noi arriviamo non so vicinare però la butto lo stesso la linea a voi ciao 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 tutti grazie grazie radio bruno in diretta dal festival di sanremo in collaborazione con grissin bon modena giochi alessara guest house mondo convenienza rosanna alpi concessionaria rino franciosi cornacchini ods giocattoli e biper banca rotunda da buona giochi alessare io Grazie a tutti